Non lo prevedo! Sì, non lo prevedo! Sì, non lo prevedo subito! Madonna! È lui! È lui! Sì, sì, è proprio lui! Il tamburo principale della vendetta! Sì! Non lo prevedo, non lo prevedo! Non lo prevedo, non lo prevedo! Sì, sì, è lui, è proprio lui! Ma adesso passa a trada! E ho prevedo, ho prevedo! Sto vedendo, ho prevedo! Un po' di contegno, un po' di contegno! Un po' di contegno! Faccia bene! E chi è? Ma è come? Ma non mi fa appena bene! Sono buono! Ma cosa stai fessuto di questa maniera? Eh, sì, a unire, ma la regolata, se non mi cambiano i cori, ma perché? Proprio non è proprio i cori! No, guarda, vi ti puoi parlare a un genio di corte lato di lato, che poi si uniscono al mezzo, pare proprio che siete... insomma, qua, l'altro! E comunque non mi sono fessuto serio! Eh beh, ma così non è serio! Così vanno il bottiglione degli ostri, non lo so che... 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 Non lo so che mi hai fatto impressione sull'occhio, veramente! Ma così prevedo, non lo so! Ma è stato un momento per venire! Non è arrivato ancora, raccoglietemi! Raccoglietemi tutti quanti in preghiera, pure voi, Anduccio, non... Non lo so che... Non lo so che... Non lo so che... Non lo so che... No, raccoglietemi in preghiera! Ah, hai capito? Dobbiamo raccogliere in preghiera! Poi dici che io a stemma, che marzo ne le aprite, hai capito? Le cannele? Eh! Una a te! Una a te! Una macchietta! Eh! Mi raccomando, a te... Eh! A te! Eh! A te, moccolo, dai! No, mi dica 10, il cannele! Poi io devo mettere ancora il quadro, là! Ah, eh! Il quadro? Non mi dici che... Piggia il Padre Pini, ah! Piggia il Padre Pini! Piggia il Padre Pini! Piggia il Padre Pini! Allora, stanno appicciando fuori il cannele! Eh, già! Appicciando il cannele! Mi raccomando! Sì! Appicciando il cannele! Mi raccomando! Mi raccomando! Sì! Sì! Mi raccomando! Mi raccomando! Mi raccomando! Ma come faccio? Non si raccomando! Ma quella è scema, però! Quella è balenga, quella figlia mia! Io la tengo dentro al cuore, ma è balenga! Veramente balenga! Come devo fare? Che stai facendo il cannele? Che stai appicciando? L'appicciando! Che stai appicciando? Che stai appicciando fuori? Ma non c'è il cannele appicciando fuori! Ma non c'è il cannele appicciando fuori! Ma prima la casa mia è una cooperativa di scema! Una cooperativa di scema! Chi è? Mi sta facendo ogni cosa! Ma non pazziate! E' un fatto serio! E' un'anima santa che viene a purificarci! Che sto chiedendo a mettere il padre più vicino! Mi raccomando! Andiamo a compi! Sono una nascita! Se vai dentro! Eh! Che di questi ci fanno? Ecco qua! Ah ah! Non ti paura! Mi fai in terra! Perdono! Io lo chiuso! Te lo comparto! Andiamoci! Menta il padre qui e le faccio porca! Eh! E' pronto! E' pronto! Signore benedici la nostra casa! Signore a te affidiamo l'anima nostra! Signore proteggici! Signore non dimenticarti di noi! Nell'ora della nostra morte! Amen! 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 C'è il padre che mi ha crescito in scuola! Ma che state facendo? Che state facendo? Ma di una patrellina a papà! Prego! 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 Il palco di il sole Viene un'arte Viene un'arte In un'arte Viene un'arte Viene un'arte Viene un'arte Il calore Il calore di Marespino Viene un'arte ANDRO. E' VORRE. A COMIC. CHIOSENI! A COMIC. ALFOTTO. STOLT. STOLT. COI'... la passano a seguire vai, buio, prevedo, ah, se vi è sembrato, tenere, io vi considero una banda di assassini, una banda di assassini, io volevo essere il tuo padre Pino, mi facevo piacere a me, raccomandata a ragione mia, cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo. Grazie.